Signore e signori, notizia bomba, abbiamo una novità riguardante Ready Player One, il film diretto da Steven Spielberg, perché a quanto pare Steven Spielberg sta lavorando e facendo la riproduzione di Ready Player Two. Quindi il secondo capitolo arriverà, ci sarà il secondo film dedicato proprio a Steven Spielberg e Ready Player One, quindi tocca aspettare, non si sa che anno esce, potrà essere nel 2025 o addirittura nel 2026, e spero che farà un buon lavoro perché diciamo che il primo mi è piaciuto assolutamente tantissimo, e quindi non vedo l'ora di vedere anche il secondo film, però secondo me, come ho già detto, potrebbe uscire nel 2025, fine 2025 o inizio 2026, e spero che verrà messo dentro a questo film delle citazioni videoludiche, come per esempio Call of War, eccetera, eccetera, eccetera. Dai, forza Steven, dai, fai il miglior film della storia.